L'Associazione Amici dell'Arte e della Storia Barlettana aveva per tramite del suo benemerito presidente dottor Kahn, Vito Antonio Lattanzio, invitato il dottor Antonio Merlini della regia Università di Bari, a ripetere in Barletta la conferenza tenuta all'Accademia Pugliese su Mariano Santo, famoso chirurgo barlettano del 1500, in onore del quale aveva voluto dedicare una sala del meraviglioso Ateneo Pugliese. Al Palazzo della Marra, sede dell'Associazione Amici dell'Arte e della Storia Barlettana, l'Onorevole Paolucci e il dottor Merlini venivano osseculiati dalle commissioni di arte e di storia con a capo i loro presidenti ed era loro offerto uno squisitissimo tè. Esse si interessò molto del nascente Museo della Disfida ed ebbe parole di incoraggiamento. Ammirò i numerosi quadri sparsi per le pareti e gradì l'omaggio di alcune pubblicazioni della società. Grimpetto all'Oratore, su di un cavalletto, era un ritratto ad olio del chirurgo, opera del pittore De Stefano, che non poco accresceva la suggestione e la bellezza della conferenza Opedico, la Gazzetta di Puglia, 27 marzo 1932.